Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di giovedì 16 novembre, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Doppio inganno di Robert Ludlum, il film di spionaggio, The Born Supremacy, in onda sul canale Mediaset 20 alle ore 21 e 5. Dal racconto ricordiamo per voi contenuto nel romanzo Le presenze invisibili di Philip Kindred Dick, il film d'azione e di fantascienza, atto di forza, in onda sul canale Iris alle ore 21. Dalla seconda parte del romanzo Il canto della rivolta di Susanne Collins, il film d'azione fantasy, Unger Games, Il canto della rivolta a parte 2, in onda sul canale Italia 2 alle ore 21 e 15. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli La trama del film The Born Supremacy Jason Bourne, che ha abbandonato la sua vita da agente segreto, si vede costretto a tornare in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio facendo ricadere la colpa su di lui La trama del film Atto di Forza Ambientato nel futuro, il film vede un operaio perseguitato da incubi su Marte Un giorno decide allora di farsi una vacanza virtuale sul pianeta rosso, egli allora scoprirà la sua vera identità La trama del film Unger Games, Il canto della rivolta a parte 2 Katniss Everdina ha accettato il suo ruolo di ghiandaia imitatrice, icona della ribellione e si rende conto che non deve più combattere solo per la sopravvivenza, ma per il futuro della nazione Con l'intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il presidente Snow per la resa dei conti finale Insieme ai suoi più cari amici, inclusi Gale, Finnick e Peeta, Katniss va in missione con la squadra del distretto Tregi, rischiando la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del presidente Snow, sempre più intenzionato a distruggerla Le trappole mortali, i nemici e le scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia mai combattuto negli Unger Games Grazie per l'ascolto Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri Un caro saluto